Il brano We Never We Never prevede l'uso come nota più alta del Do, a cui dobbiamo mettere il quinto, e il Re, a cui dobbiamo mettere il pollice. In questo brano due sono le posizioni della mano, la prima a prima e seconda battuta, nonché anche in questa, quarto dito sul Si, e invece in queste due e su questi ultimi due righi dobbiamo mettere l'indice sul Mi e l'annulare sul Sol. Quindi verrà così. Buona studio. Grazie. Grazie. Grazie.